L'accoglienza territoriale dei profughi in fuga della guerra in Ucraina passa attraverso le fasi dell'assistenza sanitaria, dell'assistemazione e della registrazione, in capo rispettivamente alla ASL, ai comuni e all'acquistura. Per velocizzare e snellire le pratiche burocratiche connesse a queste tre fasi, la Prefettura di Chieti si sta organizzando per accorpare tutti i servizi necessari ai profughi nei centri vaccinali di Chieti e Lanciano, dove al momento viene inizialmente accolto chi è in fuga della guerra. Pronto a subentrare nell'organizzazione anche il centro vaccinale di Vasto ha ricordato il prefetto di Chieti, Armando Forgione, che con una lettera ha invitato i 104 sindaci della provincia tiatina a coinvolgere i privati nella fase dell'accoglienza. Siamo nel dettaglio di come esplicitare questi aiuti, intanto semplificare le cose, che è la cosa migliore perché noi ci troviamo di fronte a cittadini che ha persone, spesso donne con minori, che sono già angustiate da mille problemi, primo fra tutti dell'essere scappati da casa. Quindi stiamo cercando di favorire quanto più questa necessaria procedura burocratica che serve a loro e a tutti noi per poterli ospitare al meglio. Quindi inizialmente tutto quello che è la parte sanitaria, capire se sono vaccinati, se hanno problemi, se non sono vaccinati, come fare, insomma metterli in sicurezza da questo punto di vista perché ancora non ci dimentichiamo che siamo ancora nel momento di emergenza pandemica. A questo però si aggiunge che anche la parte sanitaria gli consente di avere un codice alfanumerico che gli consentirà poi di avere l'assistenza sanitaria anche per il futuro. Insieme a questo c'è la necessità di regolarizzarli dal punto di vista non tanto della richiesta di asilo, perché anche senza richiesta di asilo noi l'ospitalità la forniremo comunque, però registrarli, identificare le persone serve a tutti per poterli poi rintracciare, capire e quindi il momento dell'ufficio immigrazione della polizia, il momento della sanità e poi il momento della sistemazione. La sistemazione perché ci sono tanti che in questa prima fase noi ne abbiamo in provincia poco più di 150 che sono venuti e attualmente sono sistemati tutti presso parenti, amici, conoscenti e quant'altro. Quindi una sistemazione che è stata quella di prima ondata dove chi ha chiamato il parente è arrivato e lo sta ospitando. Poi ci sarà un secondo momento che è quello nel quale non ci saranno più questi posti disponibili, i comuni non hanno disponibilità di famiglie, di appartamenti che è messo a disposizione gratuitamente e allora il comune avrà necessità di rivolgersi, ecco lì nel terzo momento necessario, rivolgersi in prefettura perché noi abbiamo la disponibilità di un centinaio di posti in provincia nei centri di accoglienza per stranieri. Esauriti anche quei posti, se dovessimo arrivare a questo punto allora i comuni dovranno rivolgersi alla regione per essere autorizzati a fare contratti presso alberghi o strutture che possano ospitare famiglie, persone, quindi in quel caso c'è un'ulteriore procedura in più. Queste tre fasi, adesso con questo va de me, come che la protezione civile regionale ci sta per inviare, ma di cui abbiamo avuto già ovviamente le anticipazioni, li fonderemo in un unico punto, nel lab vaccinale. In provincia ci sono attualmente due lab vaccinali che funzionano per questa emergenza, il lab di Chieti e quello di Lanciano. Stiamo valutando la possibilità di allargare anche a vasto perché c'è un lab vaccinale che funziona in modo che essendoci anche il commissariato così come c'è a Lanciano sono le tre fasi, possono essere tranquillamente percorse.